già da giorni volevo fare un video in youtube poi ci ho rinunciato è già passato del tempo innanzitutto volevo fare un video in occasione del voto delle amministrative e poi ho voluto anche fare un video ultimamente prima e dopo il ballottaggio ma vi ho rinunciato io rinunciato perché la politica è un qualche cosa di imprevedibile e di imprevisto quindi mi sono detto ma non vale la pena debbo fare dei video che abbiano un significato più trascendente perché in realtà se no si rischia che i miei video non li guardi nessuno e con ragione comunque visto che già ho fatto questo pomeriggio un programma qui in sprecher parlandovi delle varie cose allora mi sono detto perché già che ci sto non dico la mia opinione anche sulle elezioni amministrative e sulla sui ballottaggi tanto fino adesso ne hanno dette di cote di crudi di crude da tutte le parti manca solo che io dica la mia nel titolo ho dovuto cancellare adesso una traccia perché non avevo spazio dico aiutatemi voi a capire il risultato del ballottaggio come delle amministrative non perché io non lo capisca da me ma perché quello che si capisce e che da sempre in italia non solo da oggi o dagli ultimi 16 anni magari molti di voi e molte di voi che mi starete ascoltando adesso hanno un'età che va dai 16 ai 25 anni ebbene sappiate che così come è adesso era allora adesso finiti finite le amministrative tutte a dire tutti a dire che non hanno perso che non hanno retrocesso che hanno avuto successo che non hanno perso voti che non hanno perso città tutti a dire che sono stati gli altri che sono cresciuti poco e non non abbiamo perso molto oppure che siamo cresciuti poco ma gli altri hanno perso di più oppure che coalizzando ci riusciremo a frenare l'avanzata degli altri oppure che noi siamo cresciuti poco ma gli altri anche se si coalizzano non sono cresciuti molto oppure anche se gli altri sono cresciuti molto insieme non riusciranno mai a governare e invece noi siamo cresciuti poco ma insieme a voi che ci avete votato da soli riusciremo a governare questo non è di oggi ma neanche della seconda repubblica con i due poli che poi più che essere un bipolarismo puro è stato un bipolarismo spuro perché andavano tutti a governare sotto una stessa coalizione poi litigavano si scioglieva il governo abbiamo avuto governi tecnici anche sotto la seconda repubblica adesso non si sa se stiamo nella terza o nella quarta però ecco la repubblica post tangentopoli e mani pulite sempre si è sciolta per colpa degli alleati della coalizione che governava quindi più che un bipartitismo puro in italia ci abbiamo avuto un bipolarismo in tutti i sensi anche in quello schizofrenico ma io vi invito a tutte e tutti voi che siete giovani che avete meno di 50 anni andare a vedere dei documentari e dei video sul pentapartito che ha governato da quando si è formata la repubblica italiana fino a tangentopoli e mani pulite i cinque principali partiti stavano al governo con i loro alleati satelliti piccoli partitini e quindi ogni volta che c'erano elezioni in un anno si sono cambiati con i rimpasti di governo 11 governi in un determinato momento ogni volta nessuno perdeva perché la vittoria c'è sempre dei genitori ma la sconfitta è orfana allora tutti si aggiudicavano una vittoria anche quando avevano perso nessuno che aveva il coraggio di dire abbiamo perso consenso abbiamo perso dei voti a meno che non era una perdita perdita smaccata ma nel pentapartito si mettevano tutti d'accordo per governare tutti al contrario di quello che fanno attualmente che stanno tutti in apparente lizza con gli altri ma poi sotto sotto stanno d'accordo come pd e pdl che dopo più di 16 anni di essersi sputtanati reciprocamente forse dal 94 adesso governano quasi insieme e quindi sfido chiunque a spiegarmi chi ha perso e chi ha vinto perché una volta si perdeva quando si prendevano meno voti e quando si perdeva consenso nei voti e si vinceva quando si guadagnavano città e voti ma oggigiorno sempre di più hanno la faccia tosta di dirci ed insegnarci che hanno retrocesso poco con rispetto all'avversario politico e che oppure sono avanzati poco su chi ha retrocesso di più e quindi è come dire le cosiddette maggioranze relative e minoranze se io ho meno voti di chi è avanzato di meno però sono retrocesso di meno quindi è come se lo avessi vinto perché lui ha perso un po di più anche avendo di più di quel poco che io sono avanzato anche avendo di meno è tutto un casino nessun politico in italia c'ha il coraggio di ammettere cari amiche ed amici che mi seguite da live che loro hanno perso né alla destra né alla sinistra né nel centro né in su né in giù è inutile vengono nuovi movimenti nuovi partiti vecchio linguaggio vecchi sputtanati ma c'è qualcosa di nuovo nella politica italiana veramente lo credete veramente aiuto magari no che bello ci sono persone innocenti in italia ingenue credono che la politica adesso perché loro la scoprono perché loro iniziano ad occuparsi della politica inizia essere nuova adesso con il loro voto con il loro appoggio ecco perché poi media sovvenzionati dai partiti e di giornali che si sono riversati in internet anche se continuano ad avere contrariamente al voto referendario degli italiani finanziazione pubblica i giornali cartacei li vedono più in internet che non nelle edicole dei giornali eppure continuano a prendere migliaia a prendersi miliardi di euro per stampare su carta che è anti ecologica per le stronzate che scrivono scusate il termine i giornali continuano a dire ah che triste gli italiani non votano ma perché votare fa la differenza per il nuovo per il vecchio per politici nuovi nel vecchio per politici vecchi in partiti nuovi che si sa che molti politici si sono riciclati di destra e di sinistra adesso nel movimento 5 stelle votare fa la differenza e se votare farebbe la differenza ce lo permetterebbero i poteri forti perché in italia l'ha detto anche chi adesso non mi ricordo i governi il governo italiano e deve sottostare alle esigenze delle banche degli stati uniti dei rothschild della massoneria del vaticano dei bilderberger dell'unione europea della deutsch bank della banca d'italia delle multinazionali delle fabbriche italiane e di tutto quello che volete insomma allora il governo italiano vale qualcosa si entra nella politica per ideali politici o per fare carriere a denaro ma voi ci credete che c'è qualche partito che in italia veramente fa le cose per vocazione per servire la gente forse c'è stata un'epoca in cui i sindacati veramente facevano così perché erano composti da lavoratori oggigiorno sono tutti professionisti ma già durante tutta la sua carriera il povero bertinotti il comunista radica chic vino tinto e socialismo come dicono in svezia si vestiva in cashmere fumava la sua pipa aveva occhiali griffati e frequentava i salotti buoni dell'italia da bene era intimo amico degli industriali come gianni agnelli dei benedetti e andava nei loro yacht molti favoritismi dei quali non abbiamo mai saputo nulla verso la classe dirigente politica italiana e sindicale da parte degli industriali se adesso uno della lega si è scoperto colpevole perché gli davano vacanze gratis denaro yacht di lusso gli pagavano l'hotel non dico il nome anche perché non me lo ricordo ma uno della lega che si è sempre dichiarato innocente che era tutto un comploto dei dei giornalisti a soldo del dei nemici politici e poi invece si è saputo che a quel politico gli pagavano un mucchio di cose che è stato nel governo berlusconi della lega ebbene sono tutti così prima o poi ci cascheranno pure pentastellati perché in un mare di corrotti è difficile essere duro e puro o se ingenuo ed innocente o prima o poi ti accorgi che anche per continuare la causa politica devi rubare come diceva crazi che ha dichiarato questo quando nel suo ultimo discorso come primo ministro si è dovuto difendere per impedire il processo che gli tolgano l'immunità parlamentare invece gliel'hanno tolta e si è dovuto dimettere lo hanno processato poi se ne è andato in esilio ad amamet dove è morto con i suoi miliardi e bettino crazi diceva tutto il sistema politico è colluso e omertoso e corrotto perché altrimenti sarebbe impossibile rubare ma visto che rubano tutti chi è che denuncia il ladro un altro ladro ah io l'ho visto nella gioielleria stava togliendo dalla vetrina i rollets allora l'altro ladro dice io t'ho visto nello sportello automatico togliendo tutto il milione di euro che stava dentro e io ho appena tolto 300 mila euro in gioielli allora il ladro non denuncia il ladro a chi lo denuncia la polizia che tanto per operare nel territorio dovranno pagare il pizzo a qualche agente nel campo a qualche magistrato eppure dovranno pagare anche a qualche organizzazione criminale quindi non gli interessa fare casino ai criminali perché ci avrebbero la stessa criminalità che pagano organizzata contro perché le criminalità organizzate sono dei sindacati che regolano l'attività nel territorio non puoi per quanto tu andare a sbagliare una gioielleria in certe regioni d'italia senza che ti venga una famiglia a reclamare una percentuale o addirittura direttamente a spararti allora vedi che c'è come un sindacato dei ladri di negozi e di bancomat una volta che pagano il pizzo o la decima sono liberi di operare allora chi ognuno per i cavoli suoi chi con il bancomat chi con la gioielleria chi va dalla solumeria a derubare prodotti ma nessuno denuncia a nessun altro non fa lo spione e così i politici all'inizio sono tutti idealisti poi quando entrano sempre più a far parte del sistema il sistema li assorbe diventano un ingranaggio utile del sistema e già ti puoi scordare i grandi ideali e la morale l'etica perché iniziano a corrompersi lentamente come hanno fatto con massagnello che protestava nelle piazze contro i ricchi e di potenti e di poteri forti lo sono riusciti a cooptare a corrompere e poi la stessa gente lo ha condannato poi siccome è stato reo di sovversione e di rivolta contro il potere lo stesso potere una volta che lo aveva corrotto lo ha condannato e quindi è stato messo all'agonia e la gente ha finito per ripudiarlo e lo hanno potuto condannare a morte quindi massagnello si è tradito se continuava come rivoltoso lo avrebbero ucciso come sedizioso lo avrebbero condannato a morte siccome si è fatto corrompere ha perso l'appoggio della gente e lo hanno potuto sentenziare a morte qui vi lascia il vostro sentenchan con queste brevi riflessioni per oggi è tutto in sprecher ci rivediamo seguitemi in facebook e in youtube mi raccomando ciao